Sale a 18 su 76 ospiti il numero dei positivi alla casa di riposo Fossombroni di Arezzo. La RSA che si trova in centro città aveva fino ad oggi avuto pochissimi casi. Adesso purtroppo ne sono stati riscontrati 18, tre dei quali sono ricoverati in ospedale nei reparti Covid. Al momento stabili. Il ricovero è stato necessario appunto per liberare queste due stanze che all'interno della struttura vengono usate come isolamento Covid perché avendone più di due non era più possibile mantenerli isolati dagli altri. Quindi speravamo di avere solo quei casi e che fosse sufficiente quella misura di contenimento, così purtroppo non è stato. Altri 15 di cui solo due sintomatici sono stati invece spostati in un'ala dell'edificio adibita momentaneamente al reparto Covid. Come siete riusciti quindi a isolarli proprio anche fisicamente dal resto della struttura? Appunto convergendo tutti gli ospiti che in un momento sono positivi in questo reparto che è diventato un mini reparto Covid anche se noi non siamo di fatto una RSA Covid. Però chiaramente con l'aiuto della ASL e della USCA stiamo monitorando con contatti diretti pluri quotidiani tutta la situazione perché chiaramente il nostro primo pensiero è per gli ospiti, per la loro sicurezza, per la loro salute e quindi tutto viene fatto secondo protocollo per evitare che ci siano altri contagi ovviamente. Il focolaio sarebbe partito da un'operatrice risultata positiva ma che aveva eseguito correttamente gli screening previsti nei giorni precedenti risultando sempre negativa. Su questo devo dire che la struttura ha mantenuto una linearità eccellente su tutte le fasi di prevenzione perché il 18 sono stati sottoposti a tampone tutti gli ospiti che avevano già ricevuto la prima dose di vaccino ed erano tutti negativi, mentre il 21 sono stati sottoposti i dipendenti e anche loro sono risultati tutti negativi compreso l'operatore che poi invece successivamente è stato positivo. Quindi da parte della struttura c'è stato sempre veramente un attenersi in maniera forte e precisa tutte quelle che sono le raccomandazioni di protocollo in questi casi. Per noi i test rapidi in questo periodo, anche nell'anno 2020, sono sempre stati attendibili. Non abbiamo mai avuto ribaltamenti dai test rapidi ai test molecolari. In questo caso purtroppo non è stato così. Nella RSA è in corso anche la campagna vaccinale anti-covid. La stessa operatrice risultata positiva aveva già ricevuto la prima dose. Adesso sia gli ospiti che gli operatori non contagiati dovranno attendere l'esito di un secondo tampone per poter effettuare la seconda dose di vaccino che era prevista nei prossimi giorni. Il protocollo prevede appunto la continuazione dei test molecolari perché poi la prossima settimana sarebbe l'occasione della seconda dose del vaccino e quindi chiaramente speriamo che la maggior parte degli ospiti in questo momento continui ad essere negativa e possano sottoporsi alla seconda dose del vaccino. Devo dire che insieme ai colleghi del Consiglio di Amministrazione siamo in continuo contatto fra di noi e io in particolar modo sono in contatto con il direttore, con la ASL per monitorare la situazione. Siamo ovviamente a completa disposizione sia della struttura che dei familiari che sono stati tutti ovviamente prontamente avvertiti perché noi non dobbiamo dimenticarci che parliamo di persone quindi della loro salute, della loro serenità, della loro stabilità. Contano prima le persone e poi tutto il resto. Familiari che comunque non hanno avuto contatti perché le visite erano ancora sospese? Assolutamente sì, le visite sono sospese da ottobre e venivano soltanto fatte le videochiamate con gli operatori che si sono sempre resti disponibili a questa modalità per poter dare un minimo di contatto che per queste persone è ovviamente molto molto importante quindi però solo con la modalità in videochiamata. Grazie. 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 Grazie.